In Excel esiste la funzione Immagine che ci permette di recuperare delle immagini poste sul web, ma non ci permette di recuperare immagini che sono sul nostro disco locale. Capita che a volte gli utenti abbiano questo tipo di esigenza, quindi che cosa mi sono inventato? Ho realizzato una funzione di Excel che permette di recuperare le immagini dal disco locale e funziona in un modo molto molto simile alla funzione Immagine che Microsoft ha implementato in Excel. Infatti, cosa succede? Qui basterà scrivere Immagine sulla funzione di Microsoft, invece sulla funzione che ho realizzato io basterà scrivere Local IMG e do il percorso dell'immagine. In questo caso ho dato un percorso che è praticamente posto su una variable ed una cella, quindi vado a prendere il valore che è contenuto sulla B3. Perché ho fatto questa cosa? L'ho messo su un altro percorso, vedete che qua c'è B3 e poi qui c'è la seconda immagine. Perché l'ho resa estremamente dinamica? Io posso impostare il percorso all'interno della mia funzione, quindi gli do virgolette e virgolette e ci metto il percorso di dove è situata la mia immagine e quindi la richiamo direttamente nella cella, oppure posso mettere la variabile, come in questo caso, in un altro foglio o nel foglio corrente. Quindi lui sempre, anche se io vado qui a modificare questo percorso e prendiamo ad esempio questa immagine, la metto qui, appena io premo invio, l'immagine locale verrà aggiornata in automatico. Ora la riporto come prima e vedete che la giornata è in automatico. Quindi funziona veramente in modo completamente automatico. Un'altra cosa bella che fa la funzione che ho realizzato è che c'entra sempre l'immagine nella mia cella, quindi se ad esempio questa vedete che gioca in altezza, qui crea un oggetto, invece l'immagine originale, la formula immagine che ha creato Microsoft, non crea un oggetto dentro la cella. Però non è che posso andare qui e scriverci sopra con l'immagine come sfondo della cella, perché vedete che sparisce. Quindi diciamo che ottengo lo stesso risultato, solo che qui ho un oggetto. Però che cosa succede? Io qui la centro, qui ho lavorato di altezza, qui ho lavorato in larghezza. Quindi la funzione riconosce in automatico quanto è larga la mia cella, e quanto è alta la mia cella. In base a come è impostata la cella, lui ridimensiona in automatico la mia immagine, in modo che vada ad estensione massima in larghezza oppure in altezza della mia cella. E poi me la c'entra sempre. Quindi qui una cosa bella che la funzione immagine ha, e che io non ho potuto replicare perché il Visual Basic non mi permette di fare questa cosa, è questo tipo di operazione. Quindi io vado a stringerla e in automatico lui stringe e si ricalcola subito. Con il Visual Basic questa funzionalità è l'unica cosa che non sono riuscito a replicare, perché se io vado qua e stringo, vedete che lui non me la stringe in automatico, però basterà premere CTRL-ALT-F9, si riesegue l'aggiornamento di tutte le formule, quindi attenzione se fate CTRL-ALT-F9, perché tutte le formule che sono contenute all'interno del vostro file verranno riaggiornate. Però in questo caso vedete che lui va a ridimensionarla. Potreste anche fare che, se volete giocare solo su questo, faccio semplicemente un F2 e faccio un in bio. Però se avete appunto una colonna dove avete tante immagini su tante righe, ovviamente vi conviene ricalcolare tutto, e quindi CTRL-ALT-F9. Su una sola cella basterà fare F2 in bio. Quindi questa è l'unica operatività che non sono riuscito a replicare, perché appunto il visual basing non mi permette di fare questa cosa. E come vedete, appunto, se qui anche il BI4U lo vado a stringere, poi faccio un F2, adesso io ho la larghezza che è più stretta dell'altezza, quindi lui andrà a ridimensionare l'immagine in modo che comunque rimanga dentro la cella e me lo centra. Questo è quello che sono andato a realizzare. Allora, vediamo come funziona. Quindi avete visto che, come funziona, per richiamare l'immagine basterà scrivere la funzione LOCAL-IMG e mettere il percorso all'interno delle parentesi. Ovviamente questa è una funzione in Visual Basic, quindi adesso andiamo a vedere il progettino. Per farla funzionare dovete prendere la funzione che vi farò vedere, allegarla all'interno del vostro foglio dove dovete utilizzare questa funzione, e poi salvare il file in XLS-M oppure XLS-B binario. M sta per attivazione di macro, B sta per binario e permette anche l'esecuzione di script in Visual Basic. Attenzione anche a una cosa, menu File, andate giù su Opzioni, se andate su Centro protezione, Impostazione Centro protezione, io di solito attivo le macro, in modo che quando io apro il foglio siano sempre attive di default. Di default il software è attivato qui, quindi disabilitare le macro VBA tranne quelle fornite con firma digitale. Di solito attivo tutto, ok? Se non sono attive, ovviamente dovrete procedere in manuale, oppure quando aprite l'XL compare una riga gialla in cui vi dice Abilitare le macro per questo foglio e mettete Enable, allora lì inizierà a funzionare. Allora, vediamo la funzione. Si va nel menu Sviluppo, per chi non sa come arrivarci, si va nel menu File, si va su Opzioni, si va su Personalizza barra Multifunzione e qui si attiva appunto la voce Sviluppo. Se andiamo appunto nel menu Sviluppo e entriamo nell'editor di Visual Basic, che è qui sulla sinistra, trovate la funzione. Vedete che qui a sinistra io ho messo un modulo che si chiama Update. Come faccio a fare un modulo? perché quando aprite il foglio di Excel non esiste questo modulo. Quindi fate un clic destro su un qualsiasi punto qui degli oggetti e fate Inserisci modulo. Vedete che qui si inserisce il modulo. Qua sotto lo potete rinominare come vi pare. Premete Invio. Una volta fatto il modulo cosa fate? Prendete tutto il codice che c'è dentro qua che per gli abbonati che possono accedere a questa risorsa basterà scaricare il file e vi trovate tutto. Quindi vi fate un copio e un colla. Quindi che cosa succede? Vi copiate tutto, lo mettete dentro al vostro file, salvate e siete a posto. Potete iniziare ad utilizzare la funzione Local.img. Che cosa fa questa funzione? Attenzione anche il disclaimer che ho messo sopra. L'ho realizzato io, i miei siti, licenza d'uso. Questo script VBA è fornito così com'è per uso esclusivamente privato e non commerciale. Non ha permesso di redistribuirlo o utilizzarlo per scopi commerciali senza il consenso di Lodovico Nikau. Ok, quindi che cosa fa? Qui dichiaro una serie di variabili. Non scendo nel dettaglio tecnico avanzato insomma di come è stato realizzato lo script ma vi spiego a grandi linee come funziona. Quindi qua definisco tutta una serie di variabili. Qui ottengo la cella che ha chiamato la funzione. Perché faccio questa cosa? Perché io potrei mettere il percorso delle immagini all'interno di Local.img quindi all'interno della mia formula. Metto qua, allora io sono attivo in questa cella. Però se metto il percorso su un'altra cella del mio foglio di lavoro o anche su un altro foglio io non devo andare a caricare la cella qui dove sto mettendo il percorso ma devo andare a caricare l'immagine sulla cella originale dove viene utilizzata questa funzione. Vedete che qui ne ho messe due apposta perché posso utilizzare la stessa funzione anche su più celle quindi non è che è limitata a una singola cella per foglio no, posso scriverla quante volte voglio e quando la sorgente cambia lui sente appunto la modifica. Quindi tornando qua io identifico la cella identifico proprio le coordinate di dove si trova questa immagine quindi la funzione e identifico anche questa perché poi qui due immagini lo script girerà due volte cento immagini lo script girerà cento volte una per ogni immagine richiamata. Quindi qui identifico appunto la cella dove è situata la mia formula qui identifico il target del mio foglio di lavoro dove la cella viene richiamata perché se vado appunto a mettere il percorso su un altro foglio lui qui non trova la funzione utilizzata però l'ho utilizzata su questo altro foglio quindi io trovo il nome di questo foglio una volta trovato il nome del foglio vado ad eliminare la foto corrente quindi qua giù c'è una piccola funzione che cicla e va ad eliminare la foto che trova nella cella corrente dopodiché che quando ho eliminato la foto l'immagine vado a verificare se il percorso si è valorizzato quindi vado a vedere se l'immagine perché qui io definisco un percorso ma l'immagine potrebbe non esistere più ok perché magari l'avete definita a un certo punto sparisce e vi darebbe errore la formula perché ovviamente non trova l'immagine vera da caricare quindi qui faccio semplicemente questo if che se l'immagine non esiste vi da un messaggio l'immagine il percorso indicato non esiste va a capo e vi dice il percorso nome file di dove è situata questa immagine così potete andare a verificare se effettivamente esiste ovviamente se comprare questo messaggio non esisterà quindi potete andare a ripristinarla in modo che il file che la funzione torni a funzionare per questo percorso poi se avete cambiato il percorso ovviamente cambiate la variabile quindi se c'è tutto che cosa vado a fare vado a caricare temporaneamente l'immagine per ottenere le sue dimensioni originarie quindi vado a capire quanto è grande originalmente l'immagine poi rimuovo l'immagine temporanea perché mi serviva solo per identificare le dimensioni delle immagini originarie ridimensiono la cella perché qui faccio questo meno 6 quindi prendo l'immagine originale e faccio un meno 6 perché faccio questa cosa? perché quando vengo qua vedete che qui prendo l'estensione però io non voglio che faccia come l'immagine la funzione immagine che ha fatto Microsoft che va proprio sul bordo secco della mia cella a me non piaceva quindi gli ho dato un piccolo rientro vedete che c'è un bordettino non va proprio in linea con la cella che è brutto da vedere secondo me quindi ho previsto sta cosa qua un meno 6 anche in altezza fa un meno 6 quindi rientra un pochettino sta un po' più piccola della cella che a me piaceva di più se non vi piace lo volete esteso come la funzione immagine di Microsoft basterà togliere questo meno 6 ok fatta sta cosa cosa vado a fare? determino il fattore di scaling basato sul rapporto di aspetto dell'immagine e la cella quindi con sta papardella qua vado a vedere quanta è larga la cella e quanta è alta la cella in modo che poi calcolo la nuova posizione per centrare l'immagine della cella quindi qua la vado a caricare la estendo o la alzo al massimo in base a come è fatta la cella e qui poi vado praticamente a centrarla carica nuovamente l'immagine con le dimensioni e la posizione adattate quindi poi qua vado a ricaricare tutto poi alla fine faccio semplicemente un carica foto uguale a null quindi gli metto nessun valore in modo che qui compaia la foto ma qua sotto non compaia nessun errore di formula perché non restituisce niente e basta dire che questo è tutto fate attenzione ripeto se utilizzate la scorciatoio ctrl alt f9 perché ricalcola tutte le formule presenti in tutto il foglio di lavoro in tutto il file se fate shift f9 oppure f9 purtroppo non riesce a riconoscere l'aggiornamento vedete faccio shift f9 non ricalcola nemmeno con l'f9 funziona solo il ctrl alt f9 oppure ripeto andate sulla cella f2 invio ok se il video è stato il vostro reggimento lasciate un bel pollizioni su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se invece non siete ancora abbonati al mio canale magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video così mi aiuterete a creare a mantenere a portare sempre nuovi contenuti all'interno del mio canale e se vorrete supportarmi invece in altro modo in descrizione trovate altri sistemi per supportarmi come ad esempio acquistando una vpn trovate il link che vi porta a cyberghost che è la stessa vpn che utilizzo io quando voglio navigare in modalità sicura oppure appena la riga sotto trovate un link a un sito che vi porta all'acquisto di licenze software ad esempio antivirus oppure una licenza di office licenza di windows è un sito fantastico funziona molto bene e ha dei dei costi di licenza che sono vantaggiosi la cosa interessante è che queste licenze sono valide al 100% se siete delle aziende quindi vi consiglio di passare sotto questa piattaforma se siete i privati ovviamente andate su ebay o su amazon probabilmente le trovate a costi ancora inferiori quindi inutile che sto a raccontarvela vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao